Le restrizioni adottate durante il lockdown avevano già messo in ginocchio il mondo della cultura e dello spettacolo, un settore che adesso rischia il tracollo dopo le nuove misure adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid. Grido di dolore lanciato da migliaia di lavoratori del settore culturale e creativo che con la chiusura di cinema e teatri stanno vivendo nuovamente una situazione di estremo disagio, un malcontento crescente, che è stato rappresentato anche dall'europarlamentare salernitana Isabella Di Nolfi, attraverso una lettera pubblica inviata al ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini. Per l'eurodeputata la riapertura consentirebbe un minimo di sostentamento per tutti i lavoratori del settore e garantirebbe un minimo di svago alla collettività in un momento estremamente difficile, istanza che a Di Nolfi ha portato anche all'attenzione della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, di cui fa parte. Non capisco ancora come si voglia davvero concretamente e con quali tempistiche sostenere i lavoratori dell'industria creativa e gli artisti che sono totalmente in ginocchio. Lei non crede come Commissione Europea che si possa dare, pur rispettando le competenze di tutti gli stati membri, si possono dare delle regole per avere almeno cinema e teatri aperti, dato che si tratta di spazi molto ampi dove possono essere rispettate le regole del distanziamento.